Salve! Oggi abbiamo una reaction importante. Allora, premettiamo subito una cosa. Signori, oggi volevo reagire a un video di Yotobi, ovvero quello sul canale YouTube della Cry. Perché, ragazzi, è un video che è molto affettuoso per me. Però poi, nell'intro, ho citato l'intro di una YouTube Pup proprio su Yotobi del 2013, tipo maggio del 2013. Quindi questa YouTube Pup ha 11 anni. Signori, Yotobi perde il tacchino degli oltre 8000 punti. Per i primi di agosto faremo una serie di reaction molto importanti, ma nel frattempo ci troviamo qua, con questa YouTube Pup. Allora, devo fare attenzione. Faccio una cosa, mi ingrandisco tantissimo. Sì, lo so. Lo volete vedere, il mio faccione? Fare attenzione perché ad un certo punto c'è una forma fallica e ho paura che, diciamo... Ok. Alzi la mano più non... Non ho mai visto un cazzo con tre zambo e credo proprio di sì. Credo proprio la vostra entro iconica, peccato per però, diciamo... Il disegno che sono costretto a censurare... Ragazzi, però c'è anche il seguito. Ci guarderemo entrambi le YouTube Pup, la prima e la seconda. Allora, vi dico anche una cosa. A entrambe le YouTube Pup abbiamo reagito quest'anno, però era una live, quindi, cioè... Diciamo che è meglio farla qua che viene più vista, ma vediamo chi sarà consigliata. Se sarà consigliata sta YouTube Pup, boh, non lo so. Io non voglio fare le cose per i soldi, voglio divertirmi, intrattenermi. E la prima volta che abbiamo reagito a questa YouTube Pup è stata nel 2020, a entrambe. Peccato che però, cioè, nel 2020 facevo un sacco di finte YouTube Pup, per un periodo dove me ne riguardavo tantissimo entrambe, quindi sì. Oggi noi facciamo un bel throwback. Quindi questo era Skrillex. 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 Oh, hai. Bang, bang. Ragazzi, oddio. Sass, Robo, ha bigchiavo. Il film inizia con una... Fine. Asper, un film diretto da Giovanni Nia... Ragazzo biondo saian, un saian appunto. Ragazza bionda saian. Miss Manichino Crash Test. Leonardo Di Capra. Robot, coso, metallico, serpeverde, drogato. Draco, Maiphone. L'amico drogato. Lucio Dalla. Sky Watcher. Il padre del drogato. Adesso è il drogato, io torno. L'amante del drogato. Sì, tu caiba. Ci sono così tante cose che non lo so. Sì, tanti due tembe, 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 tembo, men. Minchia Gaudi Gio. Investigatore, cucciolo di mantide. L'uomo. Cioè, ci sono così tante cose che non lo so, ok? Una parte molto dettagliata, quella dei crediti, che... Su cui non ci divulgheremo, perché, cioè... Uno, bigchissimo. Sì, è una merda. Il gusto parte l'intro, infatti. E mo' c'è gli otobi. Gli otobi scef. Sì, mi inizia con... Dottor Cortex. Tento a segare, taggare, 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 taggare. Ragazzi. Mi sono spaventa. E mo' c'è... Ehi. Non è un SCP, questo. Non è l'SCP, quello là. È gli otobi. Inizia a destrare la gente. Aia. No. Sto bene. Guarda dove... Ma che è sta cliff qua? Guarda il versore PS. Sì, dimenticavo. I supereroi defenestravano la gente. I supereroi stavano sparando. La gente è verso un market. E mo' c'è la squadra di Team Fortress 2. Wow, complimenti per esserti mimetizzato. Tu, ma friend. Mi piace. Ragazzi, io non so cosa dire questo YouTube, ma la ricordo a memoria, cioè. Non mi voglio essere sua. Allà. Ma scusa. No. Aaaaaah. A buon Richard Benson, che ci siamo anche... Anche visti il video di Ciancianguilla. Porca roia. Oh no, non si bestemmia, i otobi. E poi c'è Matteo Montesi. In seguito, in seguito. Oh no. Cartina, guarda la parte migliore. Tu sei l'uomo, tu. No. Tu sei l'uomo, tu. No. Tu sei l'uomo. No. Tu sei l'uomo. Sì. No. Basta, ma come c'è? No. Tu sei. Sei sei. Inutile dire. Che ne ho costo sei, sei, sei. Tu sei una ciabella con crema. Signor Rossi. Dei. Dannazione. Ora orirai. Tu sei. Chiudo 8000. Cipi. Non è possibile. Oh no. No, questa parte con Steve e Brian. Oh no. Voglio che tu sappia che ti amo. Anche io ti amo, Steve. Ehm. Cioè, ma che cazzo. Ma che cazzo. Ma che cazzo. Ma che cazzo. Dai, stai. Dai, stai. Eh, no. C'era una scritta che non... Ok. Sei, 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 sei o te. Chiedo scusa. Non vorrei disturbare. Ma non dovrei finire. Eh, questa è casa mia. Vabbò. Tempo a prendere la doccia. Prima di commentare questa splendida... Splendida scena. Vi dico una cosa. Skittles! Vedete come funziona quella... Quella maschera del cazzo. Sentite qua. Un power rager obeso. Crea una texture... Una nave. Vinta della persona che... Che vuoi scopare? Un Godzilla. Un esperto di squali. Non vuol dire una merda. Ma è una merda. Poi io. Non c'è il Demesis. Con dei capelli buffi che mi insegue. Corpo. Vedere la luce. Vedere la luce. Non si capisce. Eh, infatti. Pazzo, cazzo. Teleforce behind you. Lascia la più bella. Prima del film. Non del film. Non del film. Ma del mondo. Ma dell'intera recensione. Passente, regata futura. Una scena così bella che ha girato il cosmo e le altre strozzate. Così a cazzo ma non importa. Finché nella vita ci sono. DJ, cazzo un po' di danze. E sarà di Fist of the Norton Star. Era quella la recensione. Ho anche conosciuto come Ken Shiro. Il ragazzo è stata cosa la ricorda a memoria. Alla. Lui che fa la parola. E se vedi a cazzo. Perfetto. Papà. Voglio cagare. Figliolo. Fottili. Questo è un tipo di genere. Indegereva a noi si dava Andrea Di Fre. Esatto. Esatto. Ma poi. E ho troppo. Ma poi. E poi c'è. Lui che è punto. Cazzo è lo stesso. Vadigno gli spiega che i suoi poteri sono contro quantità. Dai suoi piedi. Oltimo i piedi. Sì. Ora. Sembra Surry che sembra Fredrick Frank. Frankenstein con marijuana, cocaina, eroina. Tipo di Surry. Cioè. Cacchio. Mi devo. Di Fredrick Frankenstein mi devo rivedere un paio di YouTube poop. Ci sono reagiti al suo best of. Mi sono anche rivisto il motivo perché. Il motivo tipo il video si chiamava. Ecco perché ho smesso di fare YouTube poop su Mr. Poldo Akbar. Il video di Poldo. Dove diceva che le YouTube poop un po' non facevano più ridere. Quelle cose là. Ma il senso di quegli intermezzi. Qual è? Di farmi incazzare? Probabile. Non riesco neanche ad andare avanti con il video dopo un cotanta bellezza. Proviamoci. Cosa succede? Cos'è quella? Ti saluto. Meck. MacGyver. MacGyver. Il film inizia con. E' più grande. E' intento a succhiare un cazzo da una roccia. Ehi vabbò. Tutto buono. Mentre i genitori si ritrovano sperduti nel media world. Nel media world. O nell'auto di una famiglia che si sta per trasformare in una casa. A quanto vuole? Ah ok io dei transformer. Ok. Che di allungarsi il cazzo. Scopriamo che Eric. Vabbè. Vabbè. Vabbè in realtà non me ne frega niente. Non so se dire troppe varolacce fa bene però. Ma questo ma è un mego. Vabbò io mi dissocio che. Cazzo orde. È un megas. La sera Eric e Debbie decidono di... Con la droga. Idea delle balle. Idea delle balle. Ancora persi nel retro del mio frigorifero. E cercano di mandare un segnale fischiato. E mo' c'è Whistle Di Fly da Yes. La canzone di Joe... Del meme di Josh Hutcherson. Tu 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 tarum. Tu 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 tarum. Tu 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 tarum. Tu 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 tarum. Cioè. Ma porca. Evo. Come puoi cagare. L'iceberg di nascosto. L'iceberg di nascosto. No c'è qualcosa che non vanno a messa di sto cavolo di cacciatore di tranquillizzanti. Cioè cose a casa. Oh no. Una parte abbastanza inutile con Pirati dei Carabili mi sta arrivando. Dove sono i DVD di Spongebob? Eh sì. Infatti. Ma tanto è la stessa cosa. Sei quello a cui danno ragazzi. Il piva. Hai minacciato se vuoi. Vado famoso per la mia famiglia. Cerniere con mezzine. Ah. Credi sia saggio ragazzi. Incrociare ragazzi. Comunque ragazzi. Oh. La parte da Hubstep. Vabbò. Lui. Fichissimo. Beh. Sì però abbastanza inutile. Noi vogliamo gli otopi. I Razer in Space. Mentre la gente cerca di vivere. Facciamo la conoscenza di Bart e Lynn. Solo che qui Bart si chiama... Giara. Cioè sia Parker. Giara. Giara ma che cacchio io. E Lynn invece di essere muta è porta. Mo no. Inizia a piovere fuoco. Come fa a piovere fuoco? Il suo palazzo pazzo. Il suo palazzo pazzo. Prima lo invita. E poi gli fa restare delle palle. Che schifo. Ma quello è uno zombie. E poi gli spara. Ma quello è uno zombie. Brutta che schiaccia. Muori. Muovete i diti medi. Tei fatti. Se mi rimette... Se YouTube mi rimette sta copertina per favore. Da voi. L'oriente di calci in faccia. In calci... Roadhouse. Tum Tum. Roadhouse. Cioè. Quelle. Credo che tra l'altro. Sto YouTube opera sta commentata da. Parliamo di videogiochi ciccio gamer. Cioè. Tutti hanno commentato Sto YouTube. Tutti. You lose. Ma perché cazzo? Dragon Ball. La leggenda delle palle. Del drago. Delle palle del drago. Mi inizia con stupratori. Mi dissocio. Voglio più. Un barile. Un barile. Un barile di barile. No. No. Mi sa che c'è un'altra parte che ci sono... No. Vabbè. Questa non... Un barile. Un barile. Un barile di barile. Un barile. Un barile di barile. Un barile. Un barile di barile. Non l'ho blurato. Non l'ho blurato tutta. Forse ho blurato la... Ho blurato la frase. Però sì. Ragazzi. Forse tipo con le parole... Sì. Potevate sentire però la parola. Però io mi dissocio ovviamente. Maestro delle cartarughe. Bu. La Kame House viene attaccata e per la prima volta viene fatta vedere l'onda energetica. La Kame House viene attaccata e per la prima volta viene fatta vedere l'onda energetica. La Kame House viene fatta vedere l'onda energetica. Che appare ovunque... Che è sta cazzone? Che è sta cazzone? Che è... Bah... Boh... Gli imbecilli sui cellulari. Imbecilli sui cellulari? Pum, 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 pum. Vi chiedo come si evolva la trama da questo punto. No, no, ci sono un sacco di parole bruttissime a tema... Comunque ragazzi, ripeto. Leggere la pagina di YouTube Wiki su... 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 La recensione di YouTube dal bacchera. Devo rileggermi di YouTube Wiki. Anche la... La pagina su... Sempre di YouTube. Di mostarda. Su... Come è? Su... Eh sì, la mostarda soffuga di cervelli, mio Dio. No, no, mi sto... Oh no. Ci sono... Quello è il figlio di Vasco Rossi, tra l'altro, quello biondo. Cazzo di... Di coca. Ma quale coca? Duecento mila. Ma va va va, chi è lui qui? Ma... Quello è un secchio. Si trova Chiara che lo porta al magazzino. E... E... C'è? C'è? Fai... 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 E quando pensi che tutto il film... mo c'è tipo un mix mo ecco com'era come una con una sola frase è finito il tempo delle mele ecco qua oh no primavere di granite che è un po' come dire se vuoi che in casa compra coca cola o no il papa perché c'è un perchè c'è un cacchio di inquadratura no un dalma che c'è scusate arrivato ad un ristorante con il nome della sanità mentale che cazzo è quel coso questo è un coglione il mix tra due due personalità mi sa che erano tutti e due pittori intervistati da andrea di pre vabbò lui vabbò esatto ragazzi ti mostro il primo cioè cioè sono il primo il primo il più vecchio meme di vivere cioè o no o no non so perchè c'è sempre Team Fortress 2 nel mezzo gentleman 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 scusate cose a caso e infatti il finale oh no c'è il clone di Albano oh no oh no Matrix oh no no oh no no e mo c'è giù il mattone e mo c'è lo screen finale con fategli formare il nuovo governo italiano inevitabile vod smith e finisce qua ok passiamo alla seconda parte che è più pazzo sgravata ok senza senza articolari e allora partiamo dal fatto anche questa qua è stata commentata da Ciccio Gamer anche qua questa è la te più recente solamente un anno dopo dieci anni fa quindi sì Yotobi perde l'ultima recensione let's go sì partiamo già con i respiri Yotobi invertiti ma che cos'era non lo sapremo mai meglio meglio non indagiamo i dettagli che sono due parti da 12 minuti siccome lo scorso inaspettatamente bene con commenti tipo guarda che io abbia mai visto che c'è non mi importa quelle cose lì di merda da un schifo cioè tutti i youtuber vergogna c'è una merda ciposa di lontano a me non mi prendo niente se non si è vedato da te ma te che è quello Marte Montesi che sarà tipo da da cos'era un video di Marco Merrino tipo sui Pokemon oh no oh fuck lo sguardo truce di Yotobi pure Zeb si terrorizza oh no sai intro cioè oh no ecco qua parliamo di videogiochi con il suo sguardo ok questa l'accetto ho deciso di farmi un altro prima però fatemi fare due messe oh no due messe chi è quello Gesù e poi c'è c'è la Gesù DJ per noi tu sei davvero grande mi tengo in forma veno oh per Dio uè tu uè 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 e io ho appena iniziato uè 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 c'è Dio sta a base da upstep povero Mario no il rambo turco oh man come sapete i turchi sono famosi per plagiare alcuni turchi tipo se di 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 profondo rosso si wrong no wrong song ecco qua la cantina la stessa cantina e in entrambe ci metto non dovete sapere cosa c'è nella mia cantina ok non lo potete sapere basta con se parte di voi lo sfondo è diverso o no lo sfondo è diverso dei nemizi di rob turco versi cioè ma non è morto scusa come fa a fare i versi se è morto io non voglio morire ma che succede ed è questo bello di sto film oh no sergente hartman purtroppo quando arriva la parte migliore dica forse le munizioni come le trova dalla finestra alla framuzzo cioè non è che glieli facciamo trovare dietro la finestra ecco qua ma non stavo scherzando era una beh beh cosa c'è un cavallo pini ecco qua così eh dio tovi ti hai pensato oh ecco che arriva la parte migliore ecco qua questa era la recensore di alien apocalypse che nel periodo in cui mi guardavo tantissimo sta youtube poop quella recensione era tipo introvabile no non c'era sul canale di yotobi e poi è stata rimessa e poi è stata rimessa non mi ricordo è stata rimessa qualche tipo di recente ma tipo due anni fa non mi ricordo eh di riappare di riappare jumpscare ecco qua pozione oh no piton di merda piton di merda era da ehm riproviamo dove guarderesti se ti chiedessi di trombarmi un beso cose di Paolo Ruffini cinque punti in meno al grifon grifon merda grifon film inizia con una voce in avanti che ci racconta che la terra è stata in base dagli alieni oh no gli alieni stiamo già a casa ma stiamo già qua pianetato oh no ma ma quello è quello che si colleghava al finale alla scorsa youtube hoop quello è proprio lui non mi sono mi sono già ascoltato come si chiamava perfetto no nope quello è un aspetta quello è un medico eh il medico non ci lasmo più nope eh il pensiero da un'auto no Rosario Muniz la figa del cu oh no questa questa era la copertina del del 2020 cioè cose mela un dinosauro si si boi jumpscare dai c'è il jumpscare la casa la casa la casa la casa 2 la casa 3 la casa 3 la casa 2 la casa 2 3 la casa 1 2 3 stella la armata delle stelle la armata delle stelle spongebob diretti da spongebob io almeno me lo ricordo per aver interpretato autonico il re di stelle finiti nel telefilm spiderman e qua qui il tizio qualunque non mi troverà mai cioè beh il mio dio il tizio qualunque aveva fatto la il tizio qualunque aveva fatto insieme a Yotobi la recensione di di proprio spiderman con l'aveva fatto spiderman spiderman del 69 aveva fatto me lo ricordo oh mio dio il tizio qualunque è ancora attivo uno basta è diventata famosa per aver interpretato olimpia nel telefilm xina olimpia nel telefilm xina c'è che cazzo non c'è più vino e mercurio cosa cazzo hai detto cosa cazzo hai detto non c'è più è finito che cazzo che cazzo non c'è più mare c'è due due tre tre va a bolla Marco Verrino abbiamo già reagito a due video di lui no anzi tre cacchio vuoi sapere che cacchio io avevo detto che sarebbe figo reagire hai capito della sindrome cacchio uno tra l'impatto che è in scena anche mio dio cioè ragazzi Marco ha sempre qualcosa da servire ecco col cu cioè oh no la mia parte di una un po' troppo romantico un po' troppo romantico dove ne facciamo not surprise but sex 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 quindi la musica quasi va oltre la semplice droga no dove dice quando this è ver di 3 dicchi qualcosa sto bene sto bene ma basta but sex e ora c'è lui che fa l'aiuto vi dance but sex va 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 oh no per la recensione di sto cazzo e poi va buo parte vuole fare la recensione di sto cazzo tu 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 il film inizia con un barbone che dopo aver scoperto un barbone una cotoletta una cotoletta inizia a martellarsi cazzo aveva un martellato usato una testa in di tanto i genti inutili che gentilmente lo cospargono di vernice e gli danno fuoco poverino sembra sembra i pokemon battle montage del plaque di cui vi racconto sempre il mona c'era il mager ma non scone c'era anche il mona che tipo sbatteva la porta e quindi si faceva tutte queste cose così c'è di nuovo la mia reazione sembri proprio una puttana no io cioè robe ok ok no è mostruoso è mostruoso non ha più mano quale essere umano riuscirebbe mai a morire per mano di sti così così per mano di sti vedenti ok ok non è arrivato boh ma non c'era di nuovo la faccia di perlusconi coc coc ecco qua ah ah ma che era un cavaliere allora va boh hanno fatto la battuta c'è non lo so perché cosa di berlusconi anche le auto sono circondate hanno la grandiosa idea di barricarsi in cazzi porca puttana ma cacare no ve lo giuro se calcolassimo la velocità di cacamento di questi zombie non raggiungerebbero mai neanche fra un milione ma è vero che questa recensione poi Yotobi c'è una scena dove diciamo il bambino che era diventato uno zombie mangia non lo dirò ok non posso dirlo perché altrimenti mi proprio non posso dirlo però una scena così grottesca che Yotobi ha detto fanculo finiamo la recensione cioè non abbiate paura noi vogliamo si moce mio Dio stanno succedendo delle cose molto scose e avremo bisogno di un vostro aiuto c'è un telefono qui al commento oh no 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 ma non fare nessuna no 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 si si no eh quella affa tutto rallenta come se si entrasse in un mondo fatto di miele tutto diventa calmo rallenta gli altri due muoiono e basta gli altri due muoiono e basta boom fine oh no mi arriva sto montaggio il finale la recensione di Sharknado ho provato nella pelle l'epicità è giunto il momento di condividere con me oh no un hamburger che era quella la Puglia in cui originario io copio no mio Dio Maurizio quello era Maurizio Berluzzo che se ricordate Maurizio Berluzzo è stato l'ultimo l'ultimo che ha fatto sto youtuber di nome done4you è stata mi sembra che è stata proprio su Maurizio Berluzzo e risale a vecchissimo mi ricordo che youtube aveva tipo messo la cosa del passano due anni dal tuo ultimo video e ti riconcelliamo il canale è bene c'è oddio lui non lo so come ha fatto a sopravvivere Dio oddio Dario Moccia va bo per diventare Dario Moccia e questo quello era Pro o no Zeb anche Zeb si stuisce e si unisce o no il cuore pulsa la Yotobi dance fine ok e signori e alla fine signori finito sto video ragazzi wow è stata un'esperienza incredibile ma allora dovete sapere che per fortuna sta serie di reaction in realtà che faremo per i primi giorni di agosto in realtà ma tipo forse dopo vi dirò sarà abbastanza corta ma non lo so poi vedremo non è il frattempo signori ci salutiamo ciao ciao Grazie.